Musica Buonasera Buonasera amici di Canale Italia che ci state seguendo da casa e buonasera, voglio sentire un grande tripudio, un grande urlo Elisabetta del Medico con me, vieni Elisabetta, guardate Guardate Buonasera, buonasera a tutti Che splendore questa ragazza, veramente carina, grazie, grazie Elisabetta per essere qui Ma dai, ma sono qui Ah sei tu Elisabetta, ah, splendido Cominciamo bene Vedi quando mi hanno detto che per presentare questo programma qui a Canale Italia avevo bisogno del medico Io non speravo tanto Non sapevi chi era No, infatti benissimo, allora pronti Cosa succederà? Grande serata Ma tu mi preferisci così o con i capelli? No, così almeno quando devo mettermi il rossetto riesco a specchiarmi meglio Carina, bellina Bene, no dai, avanti, vai, vai, forza, forza Allora, dicevamo, grande serata di musica, danza, colori, luci, lustrini Vorrei fare innanzitutto un applauso, io e te, no, al nostro pubblico che è davvero bellissimo, informissima, saldissima Daniela Rosi, complimenti, bellissima voce, splendido look, davvero complimenti, facciamolo ancora un grande applauso, Daniela Rosi e Roberto Fontanini Ma pensavate, no, pensavate, no, adesso, Daniela Rosi Volevo fare da sola No, vabbè, dai, dai, continua, continua, guarda E guarda, signore e signori Passarella Passarella Modello, modello senza capelli Allora, non perdiamo altro tempo, perché adesso c'è un ospite d'eccezione Sì, un grandissimo nome Ma dimmi un po', anzi, altro che un po', dimmi un reno Perché abbiamo qui? Diciamolo all'americana Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen No, aspetta che lui lo parla l'inglese Quindi è Ladies and gentlemen first And now for this billy, the dirty ladies, and Teddy Reynolds Ti piace, guarda Sì, molto, molto Tu fammi l'acuto che ha fatto Rommi Allè Sai qual è il segreto? Una voce femminile, un nome molto particolare Lei si chiama Melita E torniamo a cantare Ho visto che è cantando e ballando Ballando abbiamo fatto noi Vogliamo sentire cantare Vogliamo sentire cantare il filo d'Ensia Che cantano una cosa Che ci interesseranno Gli uomini non cambiano E io ne so qualcosa Ci rivediamo fra pochissimo Rimanete lì Incollati Ai televisori Davanti al televisore Perché dietro Non si vede niente Vai, ciao Pericolo Grazie 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 Grazie